Il settore microfinanziario europeo è ancora relativamente giovane ed eterogeneo, caratterizzato da un'ampia gamma e da diverse istituzioni con differenti gruppi e missioni target. In termini di scala, il settore è in continua crescita. È stato completamente rinnovato il sito che la Commissione europea dedica al settore della microfinanza nell'ambito del suo programma Employment and Social Innovation, EASY. Il sito, lanciato a maggio 2017, è concepito come Help Desk, dove istituzioni e singoli individui possono ricevere assistenza in tema di microfinanza e microcredito. EASY Mic Pro si rivolge ai microimprenditori che cercano informazione su fornitori di microcrediti nel proprio paese o regione, ai fornitori di microcrediti che devono trasmettere velocemente le informazioni richieste dal Codice di Buona Condotta per l'erogazione di microcrediti, agli investitori e finanziatori che hanno bisogno di sapere con certezza se un determinato operatore di microcredito opera seguendo gli standard di reporting fissati dall'Unione Europea per la trasparenza e l'estensibilità paneuropea. Il requisito preliminare per l'accesso all'assistenza tecnica fornita dall'Help Desk su EASY e sugli strumenti finanziari del programma è l'iscrizione e approvazione del Codice. Possono cedere al servizio istituzioni di microfinanza, banche pubbliche e private, autorità locali e regionali, reti pubblico-private, incubatori di impresa, centri di ricerca e potenziali clienti che operano in diversi Paesi membri dell'Unione, in quelli candidati e potenziali candidati all'Unione nonché nei Paesi del gruppo EFTA.